Mesmerismos Mesmerismos funziona sul corpo. Se hai un corpo, tutti hanno un corpo, avrai buoni risultati con il Mesmerismos perché il Mesmerismos non è terapia nonverbala. Se hai un corpo che si può prendere in un corpo, se vuole un corpo che si può prendere in un corpo. Se volete iscriviti al nostro canale, Se vedi la città, se non vedete la città. Non vedete perlforto il corpo. No vedete. Non vedete per l'Esta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.